Sala d'attesa vuota, cassetti vuoti, poltroncine vuote, immagini dal deserto. È così che si presenta il centro trasfusionale dell'ospedale Bonomo di Andria a causa della totale mancanza di donatori. Le riprese sono state realizzate questa mattina, ma la scena, confermano dalla struttura, si ripete da diverso tempo a questa parte. Un problema che si ripresenta puntualmente con l'inizio dell'estate, ma quest'anno l'emergenza sangue è arrivata addirittura in anticipo. Così come è arrivato in anticipo il grande caldo, è arrivata in anticipo la carenza di donazioni e quindi di sangue di questo farmaco che spesso si rivela un farmaco salvavita e che rende possibile l'effettuazione di cure e interventi per i pazienti che si rivolgono in ospedale. La pandemia di Covid e la paura di poter contrarre il virus nelle strutture sanitarie hanno contribuito notevolmente alla latitanza dei donatori nell'ultimo anno e mezzo, facendo crollare il numero degli accessi al centro trasfusionale, mai così basso, dal 2012. La pandemia ci ha fatto male, ci ha fatto molto male. Noi abbiamo registrato lo scorso anno, nel 2020, una inflazione, un calo di circa il 25% nel numero totale degli accessi di donatori alla struttura e questo calo ha continuato a ripetersi anche nei primi mesi di questo 2021. Una ricerca da me effettuata negli anni precedenti mi ha evidenziato che siamo tornati purtroppo a valori di donazioni del 2012, cioè la pandemia da SARS-CoV-2 ci ha fatti precipitare indietro di 10 anni. E il problema, purtroppo, non riguarda solamente Andrea, ma tutta la regione. Nella settimana scorsa, dal 21 al 27 giugno, abbiamo purtroppo raccolto soltanto 49 unità di sangue a fronte delle oltre 100-120 delle altre settimane dei mesi precedenti, a fronte di una richiesta di oltre 90 sacche di sangue. Per cui abbiamo quasi effettuato un miracolo dei pani e dei pesci. Ma è una situazione insostenibile ed è una situazione che purtroppo rileviamo in tutta la regione. Io ogni giorno telefono ad altri centri per cercare di compensare le mie carenze e non trovo assolutamente disponibilità. L'invito resta quello di donare, mettendo da parte la paura, che spesso può diventare più contagiosa di un virus. Si dona in estrema sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli indicati dal Ministero della della Salute e si compie un gesto che davvero può fare la differenza fra la vita e la morte.